Che cosa vuol dire costruire una famiglia felice? Virginia Satira affermava che la famiglia è come un iceberg, ovvero sia coloro che sono all'interno di questo spazio conoscono sì o no un decimo di quello che realmente accade. Quando è che l'essere umano trova l'equilibrio, trova la serenità? Quando realizza pienamente se stesso. Il compito principale dell'educazione dovrebbe essere di favorire la crescita del vero sé, ovvero sia la zona dell'intimo sentire. Quel progetto di fedeltà che implica la capacità di riconoscere chi siamo e come realizzare pienamente la persona che siamo. A parole è facile, ma con i fatti, che cosa verifichiamo? Verifichiamo fin dalla scuola materna che ci sono tanti bambini che soffrono perché non trovano all'interno della famiglia quello spazio psicologico di libero movimento in cui poter esprimere per davvero la loro personalità. Da che cosa comprendiamo? Che all'interno di una famiglia c'è uno spazio vitale che favorisce questo libero movimento. movimento. Innanzitutto dalla vitalità. È l'essere persone piene di energia. Quando un bambino tende a non esprimere i suoi sentimenti, le sue emozioni, quando tende a giocare poco, quando tende ad avere un gioco ripetitivo, monotono, significa che questo bambino non ha accesso al suo potenziale creativo. Perché la creatività è importante? Perché la creatività permette ad ogni essere umano di trovare un costante equilibrio. La creatività è l'azione che genera ogni giorno la novità. La novità è vita. L'albero di oggi non è l'albero di ieri, perché c'è una novità. Qualche cosa di nuovo è accaduto nel processo di crescita di quest'albero. Detto in altri termini, cari amici e amici, è importante renderci conto che la famiglia dovrebbe per prima cosa favorire in tutti i componenti, non solo nei figli, quella continua, costante crescita interiore che è all'origine della vitalità stessa. Un organismo è sano se ha appetito. Quando un organismo non ha più appetito, significa che è in atto una patologia. L'appetito di una famiglia è il desiderio di crescere, di conoscere, di mettersi in gioco, di fare nuove esperienze, di aprirsi all'esterno, di continuare a innaffiare la vita di tutti i giorni con l'acqua della curiosità. Questo perché? Perché questo ci consente di essere davvero vivi, di sentire pulsare dentro di noi l'origine del nostro vero sé che si dirama in tutte le sue molteplici manifestazioni. È fantastico tutto questo, perché questo è esattamente quello che mette le persone ad essere giovani sino all'ultimo dei loro giorni. Cosa diceva Harry Ford? Chiunque smette di imparare diventa vecchio, sia che abbia 20, 40, 50 anni. L'unico modo per non invecchiare è continuare ad imparare. E il viaggio continua. Grazie.